Sì, c'è il pericolo perché le strutture sono state calcolate non considerando l'azione sismica. Questa zona non è mai stata considerata sismica fino al 2003, quando è stata fatta una profonda revisione della mappatura della sismicità italiana e quindi a partire poi dal 2009, anno di entrata in vigore della legge che considerava quella mappatura, possiamo dire che finalmente abbiamo un patrimonio sismo resistente. Ma fino a quel momento lì questo non si può assolutamente dire. Cosa avrebbero dovuto fare in Emilia Romagna per evitare il crollo dei capannoni? Fondamentalmente si è parlato molto di questo sui media e una cosa sicuramente è quella di le varie componenti dei capannoni. I capannoni sono come un lego, sono composti da vari pezzi prefabbricati che nel caso dell'Emilia Romagna, come nel caso nostro, non erano costruiti legandoli assieme, stavano assieme appoggiati l'uno all'altro. Questo ha comportato una caduta che io definirei come un castello di carte, quindi legare le varie componenti era ed è l'accorgimento principale. È chiaro che non è sufficiente, poi una volta che le componenti sono legate devono anche essere resistenti effettivamente al sisma. La storia della normativa antisismica è stata travagliata? Sì, la storia della normativa antisismica effettivamente ha avuto delle vicende anche recenti travagliate. Sostanzialmente per un fenomeno che è assolutamente sporadico come il sisma, le novità sulle normative sismiche sono avvenute in concomitanza dei sismi principali. E quindi nel 2003 circa a San Giuliano di Puglia una scuola collassò per un piccolo terremoto che però uccise 27 bambini e una maestra. Questa tragedia colpì profondamente l'Italia e da lì nacque la prima forte revisione della normativa, che però non fu applicata fino al sisma del 2009 all'Aquila, dove finalmente ci fu il coraggio da parte del governo di applicare la nuova normativa. Adesso probabilmente con questo nuovo sisma avremo non solo l'applicazione della normativa per gli edifici nuovi, ma anche una revisione di tutti gli edifici esistenti. Si può quantificare il costo dei provvedimenti antisismici? I costi dell'antisismica non si possono ovviamente quantificare, però possiamo dire che in percentuale innanzitutto dobbiamo dividere edifici nuovi da edifici esistenti. Nel caso delle costruzioni nuove il costo per l'antisismica è una piccola frazione del costo delle strutture dell'opera, ma il costo delle strutture dell'opera rispetto all'opera complessiva finita si attesta attorno al 15-20% del valore. Di conseguenza il maggior costo per la sismica sarà all'incirca un 2-3-5%, probabilmente come limite superiore massimo, del valore dell'opera complessiva. Per cui stiamo parlando veramente di frazioni, di pochi punti percentuali. Per quello che riguarda l'esistente il discorso è un po' più complesso perché l'esistente deve essere rimaneggiato. Da questo punto di vista molto interessante è l'applicazione dell'isolamento sismico anche su edifici esistenti. L'isolamento significa inserire una struttura che è l'equivalente di un ammortizzatore di un'automobile al di sotto dell'edificio esistente in maniera tale che l'edificio possa, grazie a questi sistemi di isolamento, attutire la forza del sisma. C'è un metodo per calcolare quanto un edificio è vulnerabile? Sì, c'è un metodo. Ci sono gli ingegneri strutturisti che sono assolutamente in grado di valutare un parametro in particolare che è il parametro della accelerazione massima che un edificio può sopportare in presenza di un terremoto perché il terremoto fondamentalmente, che è un trasferimento di energia tramite il suolo, arriva alle fondamenta dell'edificio e l'edificio sente fondamentalmente come un'accelerazione, come quando noi siamo seduti sull'automobile e ci sentiamo schiacciare al sedile quando acceleriamo e proiettare in avanti quando facciamo una frenata molto vigorosa. Il terremoto produce lo stesso effetto sugli edifici e di conseguenza l'accelerazione del terremoto più grande è, maggiore è la pericolosità. L'edificio di conseguenza può essere valutato nella sua capacità di resistenza in funzione della massima accelerazione che può sopportare. Questo è un indice che potrebbe essere utilizzato similarmente, per esempio, alle prestazioni termiche, energetiche dell'edificio, cosa che si fa assolutamente normalmente oggi.